Che fatica, wow. Ho pensato che non mi alene oggi perché non sono a casa, ma invece mi ho allenato tanto e così non ho perso niente per questo figo qua. Il movimento funzionale, per definizione, genera potenza dal centro verso l'estremità e questa è una caratteristica comune di tutti i gesti atletici e sportivi, per questo motivo tutti gli atleti ultimamente lo stanno usando molto di più. Piace alle persone comuni perché per sua natura l'allenamento funzionale è riproducibile in natura, quindi sicuro, quindi evita l'infortunio. Quest'anno io mi alleno soprattutto per le Olimpiadi in Corea. Durante l'estate è molto importante per noi di allenarci perché i successi che fa in inverno è il duro lavoro in estate e per quello faccio tanta corsa, bici e tanti pesi perché nel nostro sport è molto importante la forza esposiva per la partenza, per la spinta. E poi facciamo anche tanto crossfit. Sono molto contento di stare qua e fare, magari mi insegna anche qualche nuovo esercizio che è utile per me. Grazie a tutti.